Chi fa da sé fa per tre dice il proverbio e dato che il punto è estremamente pericoloso molto trafficato e buio di notte il residente che la notte scorsa a bomboletta spray alla mano ha eseguito con precisione ed accuratezza la scritta stop di colore nero all'incrocio ha pensato bene di sopperire alla mancanza di una segnaletica orizzontale fare presto e bene per evitare spiacevoli conseguenze dalla statale 16 prendendo via del Carmine si arriva qui in via Rizzoli e si arriva all'incrocio con la via Padalino questo è un incrocio estremamente pericoloso perché è molto trafficato in quanto tutti quelli che devono accedere nella quartiere da Fano percorrono questa strada qui la segnaletica orizzontale non è mai stata realizzata non c'era c'è il cartello di stop però spesso succede che non viene rispettato con grossi problemi e grave pericolo un esempio di cittadinanza attiva potremmo dire forse anche troppo attiva il segnale di stop c'è ma è parzialmente occultato alla vista da folti rami di un ulivo che sporgono da un giordino privato alla sinistra dell'incrocio poi c'è una lottizzazione ferma dai numerevoli anni senza sbocco queste due ragioni inducono come ci è capitato sotto i nostri occhi gli automobilisti a bruciare completamente lo stop i più attenti rallentano a malapena e spesso soprattutto nella bella stagione ci si trova bambini che giocano anche con piccole biciclette pedoni o anziani che vanno a buttare la sera i rifiuti nella vicina isola egologica dovendo necessariamente attraversare la strada ma quello dello stop fai da te non è la sola criticità della Gimarra come ci dicono gli abitanti le folte chiome di querce ed alberi a bordo strada non vengono potati da diversi anni in alcuni punti non si riesce nemmeno a passarci sotto in altri ci hanno pensato i cassoni dei camion a fare una bella sfoltita tanto sporgono fino a centro strada della carreggiata i rami e le chiome al di là del fatto estetico è la mancanza di sicurezza che si lamenta soprattutto di sera dato che i lampioni sono completamente inghiottiti dai rami illuminando poco o niente la strada causando pericolo per le solite fasce deboli pedoni e ciclisti ultimo ma non ultimo il problema delle buche dell'asfalto ormai ridotto a un colabrodo ma solo nella parte sud del quartiere via cena via murri via pinzani via rizzoli perché inspiegabilmente la parte nord da via di villa giulia in su e tutta via marzabotto è stata molto bene asfaltata due pesi e due misure